amici del sito www.gianlucarossi.it del canale youtube Gianluca Rossi TV giorno di partita questa sera chiudiamo la giornata affrontando il Torino a San Siro beh che devo dirvi inutile che continui a ripetervi che io voglio arrivare assolutamente secondo una cosa è certa lo dico dal punto di vista statistico se dovessimo battere il Torino secondi saremmo naturalmente poi ci sono altre giornate un pugno di giornate che possono conoscendo l'Inter complicarci la vita per quanto riguarda le ultime di formazione non c'è molto da dire qualcuno suggerisce una punizione per Brozovic cioè dovrebbe rientrare Eriksen qualcuno suggerisce una punizione per Brozovic al di là della multa non so se sapete cosa è successo a Brozovic insomma pensavamo che avesse messo la testa a posto adesso che ha messo su famiglia e invece nella notte tra venerodì e sabato insomma 24 ore dopo il pareggio deludente di Verona che ha causato polemiche voci sull'addio prematuro di Conte il ragazzo ha pensato bene di farsi fermare in una zona a Milano che si chiama Porta Genova non so per quale divieto forse per eccesso di velocità forse per un senso di marcia contrario va beh resta il fatto che poi gli hanno fatto l'alcol test ed era sopra di qualche grado lo dico affranto perché io richiamo sempre la professionalità ai giocatori dell'Inter e poi mi rendo conto che mi sembra di parlare al vento stanno buoni per un po' insomma per farla breve a Brozovic è stata sospesa la patente della sua non potrà più guidare la sua Roll Royce poverino era questa la macchina in cui si trovava a bordo proprio perché era insomma diciamo leggermente al ticcio da qui la reazione della società una multa ma insomma non sono qua per parlare di queste cose anche perché francamente ogni volta ci resto male a nome di voi tifosi che ovviamente così avete i vostri beniamini che poi puntualmente dal punto di vista della professionalità vi deludono era Brozovic era un po' di tempo che non combinava stupidaggini adesso ne ha fatta una e qualcuno dice che potrebbe giocare addirittura il professionalissimo Borca Valero al posto di Brozovic come sanzione aggiuntiva oltre alla multa pecuniaria che già gli combinerà ovviamente la società ma non sono qui per parlare di questo comunque Ericsson quindi trequartista dovrebbe rientrare Lukaku non ce la fa Antonio Conte ha detto chiaramente che non lo rischia per il Torino perché era uscito col Verona ovviamente per qualche problema fisico non per scelta tecnica come qualche competentone come al solito che non guarda manco le partite aveva detto quindi davanti Lautaro e Sanchez poi credo che Andreva Young ancora non è che abbiamo molta scelta in mezzo come vi ho detto Gagliardini e Brozovic oppure appunto come dicevo prima Borca Valero perché Sensi e Barella ancora non ci sono dietro scontata la squalifica di Bastoni e di D'Ambrosio questi dovrebbero rientrare quindi dietro dovremmo andare insomma con con il solito Bastoni, De Vrij e naturalmente Milan Skriniar che ci auguriamo sia più attento rispetto a quando l'abbiamo visto a Verona in Porta Andanovic questo per quanto riguarda l'Inter Torino vi ricordo perché ho avuto polemica con alcuni di voi sui social se l'Inter dovesse vincere se l'Inter dovesse vincere è moltissimo caso perché sembra che prendiamo gol da tutti cioè prendiamo gol da tutti il Torino a questo punto ci ritroveremo secondi ma non sono qua per parlarvi di questo in questo editoriale vorrei parlarvi del Manchester City perché ho avuto occasione di discutere da mesi con qualche social commercialista come lo chiamo io con la terza media me ne ricordo uno in particolare tale Marco ZH10 perché hanno anche i nomi farlocchi mica si presentano con nome e cognome su Twitter e io avevo detto il 14 febbraio scorso quando il Manchester City era stato condannato perché comunque era tra virgolette una sentenza a non giocare nelle coppe per due anni perché aveva in pratica e hanno esaminato solo il 2015 attraverso lo sponsor allora diciamo come dire gonfiato un po' la sponsorizzazione di diverse decine di milioni di sterline io avevo detto siccome faccio sempre mia la frase del Marchese del Grillo nel calcio business voglio proprio vedere se il Manchester City che non è l'Ecranas il Clugi o il Milan ormai senza più Berlusconi cioè insomma squadrette non è vediamo se il Manchester City che è un potentato calcistico che con le sue sponsorizzazioni tiene in piedi da Champions voglio proprio vedere se l'UEFA arriverà a non fargli fare le coppe per due anni non ci credevo l'ho detto subito da cui Marco ZH10 lo chiamo così perché così si fa chiamare e altri fenomeni no che il problema è che leggono le cose che scrivono altri su internet magari non vanno a parlare come fa il sottoscritto con chi il fair play finanziario l'aveva scritto all'epoca aveva previsto anche le scappatoie per uscirne per i grandi club non so dico Ernesto Paolillo per dirne uno ancora quando era direttore generale dell'Inter e io ho detto tra me e me secondo me il Manchester City le coppe le farà troveranno il modo di fargli pagare una sanzione almeno 30 milioni invece con mia grande delusione la sanzione addirittura da 30 è passata a 10 capirai pagabile probabilmente come al solito in 5 anni insomma per farla breve il Manchester City di Guardiola si fa le sue coppe ma io non è che voglia prendermi rivincite perché francamente se mi giudico non credo di essere credo di essere assolutamente nella media dei cronisti il problema è che ci sono questi fenomeni che si improvvisano davanti ai quali mi sento un genio perché avevo preso un po' di informazioni e purtroppo purtroppo oggi è successo quello che io sapevo da mesi praticamente il Manchester City è stato assolto per l'anno 2015 poi altri fenomeni mi scrivono ma sai che cosa di che cosa si è trattato loro a me purtroppo i social diceva Umberto Eco hanno dato cittadinanza a tutti i cretini del mondo no per cui l'opinione di un premio Nobel vale come l'opinione del primo cretino pensate che devono ancora esaminare il 2016 il 2017 il 2018 insomma per farla breve il City con buona pace di tutti e come io sapevo giocherà regolarmente nelle coppe perché io ho sempre detto che il fair play finanziario è una legge tra virgolette che è uguale per tutti ma non tutti sono uguali davanti alla legge vi ricordate il Marchese del Grillo io so io e voi non siete in cazzo ecco più o meno funziona così se sei un grande club ed è per questo che io deridevo un pochino su un in quando mi dicono bisogna stare attenti il fair play finanziario ecco vedete come si comportano il Manchester City il Paris Saint Germain fanno i loro acquisti multimilionari e poi tranquillamente certo vanno sotto sanzione perché è giusto che vai sotto sanzione poi vanno al cassa alla commissione del tribunale alla commissione del tribunale dell'arbitrato insomma in qualche modo la sentenza diventa di un terzo e continuano a giocare nelle coppe io ho sempre detto cara Suning invece di dire gli scami in tutti i giorni no che poi la gente ci crede allora camminare con le proprie gambe oggi con questi potentati calcistici sì ci puoi provare ma è molto raro che tu possa vincere aprire un ciclo purtroppo devi spendere devi spendere devi un pochino anche andare al di là di quelle che sono teoricamente le possibilità ordinate dal fair play finanziario bene lo fanno il Paris Saint Germain lo fa Real Madrid lo fa il Barcellona forse non lo fa il Bayern ma perché vabbè i tedeschi devo dire che sono un pochino più regolari di tutti gli anni insomma lo fanno tutti e allora io ho detto Suning se vuoi vincere veramente vuoi avere un risultato sportivo immediato vai pure sotto sanzione fair play finanziario tanto poi sei un potentato calcistico muovi il calcio stai tranquillo che poi la sanzione te la tolgono capisco che non è il massimo dell'eleganza ma perché c'è ancora qualcuno convinto che il calcio oggi del terzo millennio sia uno sport dove siamo tutti uguali o è forse un business fatto da potentati bene io siccome voglio vincere vorrei che l'Inter sfruttasse la possibilità di essere potentato tanto più che Suning in questo primo trimestre del 2020 ha fatturato l'ira di dio forse non lo sapete ma le risorse che vengono destinate continuamente all'Inter sono tra l'uno e il 2 per cento allora io dico se soltanto passassimo al 5 non dico che possiamo permetterci messi ma poco ci manca è solo una questione di volontà volere è potere quindi poi si imbestialisce conte perché lo sa gli fanno certe promesse e poi magari gli prendono le seconde scelte certo che alcuni di primo piano gliel'hanno presi è per carità di dio infatti io quest'anno per la prima volta tanto di cappello a Suning dico però figlioli se vogliamo vincere purtroppo dobbiamo un pochino utilizzare queste leggi che come avete visto sono abbastanza cangianti a seconda della potenza del club bene io sono un club potente santo dio io sono l'inter ok sono l'inter non sono le cranas il cluji il galatasaray che ha un grandissimo nome ma non ha più la potenza di una volta sono questi quelli che normalmente vengono condannati a stare fuori dalle coppe se sgarrano gli altri potentati che sgarrano volete che vi racconti che cosa fa da anni con nasser al chelaifi e il potere catariota il fondo catariota che cosa fa da anni il pari san germain è meglio non non ve lo racconti tanto più che ha messo anche i suoi uomini nella commissione che poi deve giudicare se uno rispetta o non rispetta il fair play si avete capito bene credo che proprio lui nasser al chelaifi o uno della famiglia sia addirittura nella commissione che poi dovrebbe condannare quello che eventualmente viola il fair play finanziario e quando mai si autocondannerà il pari san germain così come il manchester city quindi questi come dire tardivi li chiamo tardivi che ogni tanto pontificano sui social no caro marco zh10 forse oggi hai avuto invece di dire agli altri insultiamo gianluca rossi su twitter se poi non va così forse hai avuto la prova provata perché sei lì che aspetti dal 14 febbraio di quello che ti dico io ma questo scemo non è che te lo dice perché se lo inventa te lo dice perché magari intanto ha preso informazioni e non c'era uno a parte te e qualcun altro che poteva credere che il city con il potere calcistico ed economico che muove sarebbe stato fuori dall'europa perché ripeto il fair play finanziario che praticamente è entrato in crisi ancora di più ma lo è sempre stato non dico sia una burla perché non mi permetto ma è una legge per cui vale per alcuni ma non vale per altri insomma tutti sono uguali davanti alla legge e bene no la legge si dice la legge uguale per tutti bene non tutti sono uguali davanti a questa legge ne avete avuto la prova provata adesso però non ho più voglia di nervosirmi stasera è importante che giochi l'inter quindi inter torino cerchiamo naturalmente di portare a casa i tre punti e di raccogliere magari questo secondo posto in classifica un saluto qui dall'arena civica l'arena napoleonica di milano uno dei simboli dell'inter da gianluca rossi amici del canale youtube gianluca rossi tv e del sito www.gianlucarossi.it ci sentiamo presto e magari non credete al primo che passa per strada se anche non volete credere a me non credete al primo che passa per strada aspetto le vostre visualizzazioni le vostre iscrizioni ciao ciao